L'altra volta chi ne chiese ben nove punti, questa volta con l'accettazione dei ricorsi da parte del Collegio di Garanzia e quindi con l'uscita di alcuni attori dal processo ne chiede addirittura 11, siamo davvero alle comiche finali, siamo totalmente alle comiche finali, avremo modo di sviluppare tutto questo nel corso della giornata, io naturalmente anche attraverso la mia pagina Facebook, attraverso questo canale YouTube nella community e anche su tuttoyuve.net e calciogol.it cercherò di tenervi informati, ma sarete voi che informate a me perché ad ogni minuto, ad ogni secondo mi arrivano le notizie, quindi siete voi molto più informati di me. Io sono qui per la ricostruzione della vicenda di ieri che riguarda ancora una volta l'invertebrato Allegri, se ce ne fosse il bisogno, quando io vi dico che io lo schifo prima come uomo e poi dopo come allenatore, figuratevi un po' quanto io posso schifare questo personaggio squallido, ibrido, vergognoso, un traffichino, un uomo senza dignità, un uomo che pensa di raggirare tutto e tutti, mi sto riferendo appunto a Allegri. Ho dovuto fare una ricostruzione perché io ho bannato tutto, ho disdetto tutto, quindi io non guardo, non mi arrivano gli annunci, mi dicevano, mi chiamava la gente, dice Caressa ha annunciato che ci saranno notizie sulla Juventus, ma io dico ancora lo guardate, ancora avete il coraggio di tenere Sky, ancora vi vedete da Zon. Ecco loro puntano sul fatto che i tifosi della Juventus non hanno disdetto, hanno disdetto in pochi, non in 6.000 come diceva il fatto quotidiano, molti di più di 6.000, ma sono sempre pochi, tutti bisogna che si tolgano di mezzo, avete visto cosa sta succedendo? E allora che cosa si è verificata? Io poi la ricostruzione l'ho fatta totalmente, l'ho fatta sostenendo anche determinate miei principi giornalistici, perché? Si parte dall'onda, dove si apre la vicenda? Era tutto studiato a tavolino, la vicenda si apre con la conferenza stampa, che purtroppo mi sono dovuto andare a vedere. Nella conferenza stampa Allegri prepara il campo a quello che già sapeva, perché già aveva chiamato a Caressa, aveva già preparato la trasmissione di Caressa. Come l'hanno fatta? Hanno fatto la conferenza stampa di Allegri come sempre, poi il suo addetto stampa, Sabatini, che sta a Pressing, quella è una trasmissione che ho guardato sul telefonino, hanno creato praticamente il tutto, per non far capire che questa cosa la faceva a Pressing, dove c'è appunto Sabatini, che il suo addetto stampa e nessuno ha il coraggio di dirlo, Sabatini è l'addetto stampa di Allegri, non ufficialmente chiaramente, ma è l'addetto stampa di Allegri. Hanno delle società in comune, hanno tante cose, vabbè, questi sono caspiti d'oro. Poi, attenzione, poi utilizzano Balzarini, perché se vi andate ad ascoltare il video di Balzarini ci sono cose da mettere le mani nei capelli a favore di Allegri, da mettersi le mani nei capelli. Quindi, dato che Balzarini è nella redazione di Pressing, di Mediaset, ieri sera, stranamente, perché io non avevo visto niente e non ho visto quello che ha detto Caressa, ma mi sono fidato di quello che si è scritto, stranamente, Sabatini era particolarmente teso a Pressing, stranamente faceva parlare e poi rintuzzava sui fatti, stranamente aveva preparato già Zazzaroni un'altra aggressione pro Allegri, cioè loro l'hanno preparato, non è che soltanto Allegri è chiamato a Caressa, è stato tutto il circo mediatico che hanno in mano, che hanno cercato di condizionare, ma ormai i tifosi della Juventus, se nemmeno solo i tifosi della Juventus, non si fanno prendere più in giro. E allora, dato che neanche con la buonanima di sconcerti nessuno si era bevuto, il fatto che avevano fatto la chiacchierata, sconcerti l'aveva riportato, no, era tutto preparato. Nel momento più preciso in cui Allegri traballava, esce l'intervista, guarda un po', di sconcerti con Allegri. Ieri sera invece questa grande notizia che doveva dare Caressa, molti dei quali ritengono che un serio professionista, no, è una merda, come tutti gli altri giornalisticamente parlano. E allora, dato che quando aveva firmato con la Juventus già andò lì dentro a sproloquiare, a non dire nemmeno quello che si era fatto, in pratica si sono messi ben d'accordo, sostenendo che bisognava fare la guerra all'arrivo di Giuntoli. Io non sono stato mai convinto dell'arrivo di Giuntoli, però ieri sera ho avuto la conferma che Giuntoli arriva. Cioè l'aggressione tentata da Allegri verso Giuntoli è la cartina di tornasole del fatto che Giuntoli realmente può andare alla Juventus. Perché sennò non c'era nessun motivo per cominciare la battaglia interna di Allegri contro Giuntoli. Una battaglia di vigliacchi, perché quello è un vigliacco, Allegri. Cioè quello che ha fatto, è quello che ha sostenuto. Cioè che Manna poteva avere delle promozioni, che guardate, è la prova provata che ci troviamo di fronte al più grande sconquassatore della Juventus. Ve lo dicevo a tempo, tempo, tempo fa, anche l'estate scorsa. Ha sconquassato l'ambiente. Lui non fa l'allenatore della Juventus, tiene il controllo della Juventus attraverso i quattro anni di contratto. E per questo motivo io che sono stato sempre Agnelliano, Andreano, diciamo così, su questa vicenda ha davvero lasciato una coda velenosa Andrea Agnelli. Non per quanto riguarda le plusvalenze e l'altro, perché là non c'è niente, là si stanno inventando tutto, ma sulla presenza di Allegri. Perché lui, praticamente Agnelli, ha messo Allegri con il quadriennale, ve lo scrivevo, andate a vedere su tutto Juve.net, per controllare la Juventus. Cioè Allegri in questo momento è il controllo ancora di Andrea Agnelli. E quando quella, non mi fate dire come la, come penso di quella, della Crystyling, come si chiama quella, dice il problema della Superlega, si riferisce proprio alla presenza di Allegri sulla panchina, con il quale Andrea Agnelli controlla ancora la situazione. Lui controlla il suo giardino, Miretti, De Sciglio, che a me piace De Sciglio, attenzione, Alexandra, avete visto, gli ha fatto rinnovare il contratto e poi non lo ha fatto giocare subito dopo che si era rinnovato il contratto. Cioè lui ha il controllo too court della situazione. Questo controllo, con l'arrivo di un direttore sportivo, viene totalmente a mancare. Perché è evidente che la sua situazione con un UDS traballa. E dato che sono stati sgamati anche questa volta, io non so come va a finire mo' all'interno. Non so, a parte il fatto che a mio avviso ci sono tutte le condizioni per impugnare anche il contratto per i comportamenti di Allegri. Ma questi sono altri fatti. Ci troviamo di fronte ad uno sconquassatore, ad un distruttore, ad un rivoluzionario, ad uno che a tutto pensa tranne che al campo e alla formazione è l'ultima cosa che gli riguarda. Anche perché non ne capisce manco un po'. Lui sta tentando di distruggere la Juventus. Il sistema anti-Juventus, come da tempo mi sto sostenendo, lo mantiene perché lui è il vero cavallo di troia della FIGC, della Procura federale, dei giornalisti, di tutti. Lui è il cavallo di troia. E la debolezza della Juventus è la forza degli anti-Juventini. Si chiama Allegri, in senso assoluto. Qui non stiamo più parlando della questione tecnica, strettamente tecnica. Qui stiamo parlando della questione totalmente generale della Juventus. Cioè che cosa si è messo in testa? Ma chi crede che lui è il cavallo di troia solo del calcio, di Chinè, di Santoriello, della Corte federale, del collegio di garanzia, dei giornalisti anti-Juventus e del sistema anti-Juventus e soprattutto il controllo della gestione di Agnelli, sbaglia di grosso. Non sono soltanto queste le componenti che fanno capo all'epicentro sismico che c'è all'interno della Juventus, che è appunto Allegri, ma sono anche gli ultras, i tifosi, con i quali lui è in accordo. Perché lui ha costruito una blindatura che non è soltanto contrattuale, economica. Ha una blindatura enorme che porta purtroppo allo sconquassamento della Juventus. Grazie ad Allegri è possibile arrivare alle penalizzazioni, perché se Chinè oggi ha dato 11 punti, ha chiesto, non so quando ne darà poi la Corte federale più tardi, ne parleremo. La Juve arriva a 58 punti, no? Dovrebbe arrivare a 58 punti. Quindi ancora in corsa per la Champions League, volendo essere, ma con 10 punti in più. Oggi nessun giornale parlava del processo, non se ne parlava proprio. Quindi l'indebolimento viene dall'interno, da Allegri. La Juve invece di avere 69 punti, aveva 79, che gli faceva? Il solletico. Gli faceva totalmente il solletico. Allora, un po' con Allegri, un po' con gli arbitri, un po' con i VAR, un po' con un preciso disegno, di cui Allegri fa parte totalmente, stanno cercando di tirare fuori la Juventus dall'alta classifica. Allegri però, di questo sistema, è il caposaldo, è l'epicentro, è la forza del sistema anti-Juventus, si chiama Allegri. E infatti, avete visto ieri, tutto il circo si è unito, compattato intorno a Allegri. Ma mica noi possiamo sopportare questo. Questo se ne deve andare. Questo deve scappare. Perché è l'unico a mettere tutti d'accordo contro la Juventus. Se togliete Allegri dalla Juventus, cade il castello, cade il castello anti-Juventus. Perché la Juventus si ridiventa forte, ridiventa invulnerabile, ridiventa intoccabile. La vera afflittività, la vera gravità, è lui, è la sua presenza. È una presenza nefasta, è una presenza vergognosa, è una presenza scandalosa nella Juventus. Si serve appunto di gentaglia come quelli di Sky, che ormai stanno con l'acqua alla gola, perché non si rivede più nessuno, devono fare la stessa cosa che faceva reporter, per riavere dei telespettatori. Voi vedete che cosa genera la Juventus. Chiudete la tv! Chiudete ste porcherie! Chiudete! Cioè i tifosi della Juventus sono l'arma degli anti-Juventini. Sono i tifosi della Juventus. Il più grande anti-Juventino che si mette a fare qualcosa contro la Juventus viene foraggiato dai tifosi della Juventus. È un cortocircuito vicino al quale ci si fa male. Chiudeteli! Non li seguite! Lasciate stare! E' tutta una merda contro la Juve. Sono tutti contro. E' un circo mediatico contro. Ed è foraggiato, sostenuto dai tifosi della Juventus. Spero di essere stato chiaro, ci vediamo più tardi. Ma questo è. Questo è. non entro ancora nelle valutazioni che riguardano l'attacco aggiunto da parte di Allegri. Perché sono mille valutazioni, possono essere di carattere organizzativo, perché perde colpi all'interno, perde una leadership, perde una, una, diciamo, una conduzione. Oppure perde il posto. Perché oggi io vorrei vedere con questi chiari di luna chi lo prenderebbe Allegri. E' finito. Devi tornare ai cavalli, a giocarsi i cavalli, a giocarsi i nove milioni che prende dalla Juventus. a immetterli. Ma uno che gioca è capace di tutto. Non è una brava persona, Allegri. Non è una brava persona. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche e soprattutto a mettere un commento se lo ritenete opportuno. Grazie a tutti quanti voi. Alla prossima. Grazie. Grazie.